Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. La sua carriera professionale l'ha iniziata come autista, come tutto fare, poi in brevissimo tempo ha scalato tutti i gradi della copola casalese, diventando nel capo assoluto. Sto parlando di Francesco Schiavone, noto soprannominato Sandokan, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato la sua decisione di collaborare con la giustizia dopo ben 26 anni di duro regime di carcere. E allora noi vogliamo rifletterne con i nostri ospiti, con Don Maurizio Patriciello, che tra pochissimo sarà con noi. Don Maurizio Patriciello, ben sapete, è in prima linea nel combattere la criminalità organizzata che ha avvelenato la sua terra, che venerdì scorso, venerdì santo, ha preso carta e penna e a Francesco Schiavone ha scritto una lettera. Allora io do il benvenuto ai nostri ospiti. Nel nostro studio è tornato a trovarci il collega molto amato del servizio pubblico, Paolo Di Giorantonio, ben arrivato Paolo, ben tornato, collegato con noi il direttore di Deposta Internazionale Giulio Gambino, Giulio bentornato, buongiorno anche a te e naturalmente benvenuto, lo abbiamo appena nominato, Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Ciao Don Maurizio. Ciao, grazie per l'invito. Allora Don Maurizio, io parto da te e ti chiedo subito di ricordare a tutti noi, al nostro pubblico, chi è, chi è stato Francesco Schiavone detto Sandokan e qual è la sua responsabilità nell'avvelenamento di quella terra che è tristemente nota, così è stata denominata, terra dei fuochi, la tua terra. Don Maurizio. La mia terra, la mia terra è una terra benedetta, è una terra che noi amiamo e per la quale sempre ci siamo spesi. Francesco Schiavone invece è il capo del clan dei Casalesi, questo clan maledetto che è nato proprio nella mia diocesi di Aversa, nel paese di Casal di Principe, oggi ha 70 anni e lui è del marzo del 1954. è stato il terrore nostro, mio, della nostra gioventù, della nostra giovinezza, ha avvelenato le nostre terre, ha rovinato la nostra economia, la Campania tutta, l'Italia, ma soprattutto la mia diocesi di Aversa ha sentito il puzzo, il fetore puzzolente proprio del fiato del clan dei Casalesi. È stato arrestato a 44 anni, si è fatto 26 anni di carcere, anche alcuni dei suoi figli adesso sono in carcere, ha rovinato veramente tutto perché io dico sempre che i camorristi non vogliono bene a nessuno, neanche ai loro stessi figli. Ecco, io ti ringrazio Don Maurizio. Adesso sembra che voglia, sì. No, ti ringrazio perché meglio di così non ce lo potevi raccontare e ricordare ed è importante che tu l'abbia fatto perché solo qualche giorno fa, qualche settimana fa ci raccontavi di aver deposto con Don Luigi Ciotti un fiore sulla tomba di Don Peppe Diana che è stato proprio barbaramente ucciso dalla camorra, dalla criminalità organizzata e venerdì scorso, venerdì santo, tu hai compiuto un gesto rumorosissimo, dirompente, hai preso carta e penna, hai scritto a Francesco Schiavone. Perché? Cosa gli hai scritto? Ma intanto io avevo già scritto al suo cugino Carmine Schiavone qualche anno fa perché volevo sapere da lui tante cose che non mi venivano dette per quanto riguardava lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici interrati nelle nostre campagne. Allora dico se ho bisogno anche di lui gli ho scritto una lettera aperta. Lui mi ha voluto incontrare, ci siamo incontrati, ho incontrato questo nonnino così che a prima vista sembrava una persona normalissima e mi ha detto tante di quelle cosacce che io sono rimasto inorridito. Dopodiché venerdì santo io mi preparavo per l'adorazione della croce e ho voluto scrivere questa lettera anche a Francesco Schiavone e gli ho detto io spero solamente che tu possa fare un passo in avanti e passare da collaboratore a persona veramente pentita che chiede perdono innanzitutto al Signore perché deve chiedere perdono al Signore per aver sciupato i doni che il Signore gli ha donato e gli ha fatto. E poi chiedere perdono alla nostra terra, alla nostra gente. Noi abbiamo subito per anni la prepotenza di questo uomo, le sue malefatte. Tutti quanti noi siamo vittime, coloro che sono morti, i morti innocenti, ma anche coloro che come me da sempre vivono in questo territorio e da sempre abbiamo dovuto fare i conti con la camorra. Io in questo momento sono parroco al Parco Verde in Caivano, sono sottoscorta ancora una volta perché la camorra non ama le persone che parlano con libertà, che possano esprimere il loro pensiero, vogliono i soldi, vogliono la nostra libertà, vogliono la nostra dignità. Noi dobbiamo porci una domanda molto seria, ma com'è stato possibile che sia nata nella nostra terra benedetta questa radice perversa? Come è stato possibile? Paolo, tra l'altro appunto in provincia di Napoli sono oltre i 2767, me lo sono dovuto appuntare, i siti che sono stati identificati, individuati, di smaltimento di rifiuti altamente tossici. Tu te l'aspettavi questa decisione, annuncio di Francesco Schiavone? Cosa hai pensato? Beh, ho pensato soprattutto una cosa, come nei casi di altri famosi pentimenti, è sincero o non è sincero? Vuole ammorbidire la sua situazione di ergastolano o davvero cominciano a pesargli sulla coscienza tutti quei delitti che Don Maurizio ha sommariamente elencato perché l'elenco sarebbe anche molto più lungo e quindi ecco, se è veramente pentimento, se c'è veramente la volontà di cambiare direzione completamente e quindi di dire quello che interessa alla giustizia 1, alla comunità 2, beh allora è molto interessante. Per il momento non possiamo dire niente, il fatto che però lui abbia deciso di farlo, ora che a Napoli il procuratore è il dottor Gratteri, questo qualche cosa significa, perché è un uomo forte dello Stato e diciamo che l'uomo forte della Camorra decide di parlare con l'uomo forte dello Stato. Io Giulio, direttore, mi ricollego proprio a questa ultima sottolineatura che ha fatto Paolo a quell'ora, Gratteri, secondo te perché proprio adesso? Se avessi la risposta a questa domanda probabilmente tutti noi avremmo molto più chiaro ciò di cui si sta parlando, purtroppo ricollegandomi a quello che diceva Paolo il punto è esattamente questo, non possiamo ancora conoscere, non sappiamo le dinamiche che hanno portato a questa sua volontà di collaborare, ovviamente siamo nel mondo dell'ignoto, il punto interessante di tutto ciò sarà comprendere le motivazioni che lo hanno portato a fare e credo che queste non possano presiedere o in un motivo reale di pentimento, però purtroppo questo come detto non solo non è dato sapere, non possiamo nemmeno sapere l'estensione di quanto effettivamente questo pentimento possa essere reale o almeno verosimile rispetto a quelle che sono state ricondotte degli anni passati oppure quanto invece non ci sia una convenienza o un qualche tornaconto almeno nella sua ambizione personale. L'uomo aveva deciso di morire in carcere, questo è un dato di fatto acquisito ormai, l'idea che abbia cambiato, rotta, fa pensare che ci possa essere la necessità di un dialogo. Il tema vero è che quanto di quello che lui ha preventivato o almeno programmato nella sua testa dovrà ancora essere scontato e fatto i conti con quelli che sono gli uomini con cui poi lui si incontrerà. Giulio, poi ci torniamo su questo perché questo è un punto di rimente importante. Io faccio una breve tappa dal nostro Simone Lombardo per acquisire ancora qualche elemento per la nostra riflessione. Sì Gabriella, mentre si attendono i verbali con le prime rivelazioni del boss Francesco Schiavone, ricomincia domani il processo ai fratelli Nicola e Vincenzo Schiavone accusati di procedure illecite nelle gare d'appalto della rete ferroviaria italiana. E poi precisiamo una cosa Gabriella che oltre agli appalti Francesco Schiavone potrebbe chiaramente rivelare verità nascoste su crimini ancora irrisolti. Vogliamo sentire la vostra anche su questo, quindi vi dico già che il nostro numero Whatsapp sia attivato, attivi ci sono tutti i nostri social e la nostra mail di redazione. Grazie Simone, se volesse chissà quanto potrebbe dire Francesco Schiavone anche dell'uccisione di Don Peppe Diana. Allora noi andiamo brevemente in pubblicità, poi questa nostra riflessione la riprendiamo subito partendo dallo studio. A tra poco. Eccoci, rientriamo in studio Siamo Noi e continuiamo a parlarne della decisione annunciata dall'ex boss dei casalesi Francesco Schiavone detto Sandokan che a 70 anni dopo 26 anni di regime di carcere duro il 41 bis nella casa circondariale dell'Aquila ha annunciato di essere pronto a collaborare con la giustizia e questa decisione sarebbe maturata nelle ultime settimane e insomma ci sarebbe parecchio che potrebbe dire. Prima accennavo anche alla uccisione brutale di Don Peppe Diana che abbiamo più volte ricordato qui in queste settimane. Paolo, quel sistema criminale, il clan dei casalesi, alla cui sommità insomma si collocava Francesco Schiavone detto Sandokan. Secondo te ha già in questi anni in cui appunto scontava il carcere Francesco Schiavone mutato il suo volto come hanno fatto la Camorra e la Drangheta, la mafia? Sta mutando? È in corso questo processo? Sicuramente sì e diciamo che in generale nella società proprio le organizzazioni criminali sono quelle che più facilmente si adattano ai cambiamenti, si tra virgolette modernizzano. Certo non sono più forti come una volta perché lo Stato ha vinto una serie di battaglie molto importanti. Però ecco diciamo perché Sandokan è Sandokan. Sandokan è insieme a qualcun altro nell'ambito della Camorra, colui che ha portato l'organizzazione dalla criminalità di vicolo alla grande imprenditoria, agli appalti, alla droga, con la connivenza con il potere politico. Quindi ecco ha portato l'organizzazione in un ambito internazionale, tant'è vero che poi si sa che ci sono collegamenti con la mafia, con l'Andrangheta, con le organizzazioni criminali anche internazionali. Quindi ecco tutto questo era Sandokan e ancora è la sua organizzazione. Certo è che non siamo nei ruggenti anni 90 quando veramente le cose erano tragiche, adesso sono molto serie, ma insomma qualcosa la giustizia sta facendo. Qualcosa sta accadendo, qualcosa si sta muovendo, resta ancora molto da fare. Giulio, direttore Gambino, c'è un passaggio della lettera che Don Maurizio ha indirizzato a Francesco Schiavone in cui dice finalmente se tu parlerai davvero, insomma la zizzania potrà essere stirpata dalla redice e diversi colletti bianchi possono cominciare a tremare. Di fatto anche Saviano aveva esplicitamente scritto che il suo clan, e quindi aggiungiamo qualcosa a quello che ci diceva Paolo, è stato tra i pochissimi ad avere un rappresentante diretto proprio dentro il governo che era il sottosegretario dell'economia, Cosentino, che per questo sta scontando il carcere. Giulio. Mi ricollego esattamente a quello che dicevamo prima, il punto è esattamente questo, capire se questa sua richiesta di collaborare sia effettivamente o meno una volontà di chiarire alcuni aspetti, alcuni tra i più efferati, atroci, orribili, orrendi che conosciamo, oppure se non sia la più triste preparazione per un terreno di trattativa su quelle che sono tristi verità, vicende, fatti, e soprattutto appunto quello che può essere il terreno per il futuro. Tu dicevi, ma chissà che questo non possa preparare il campo perché poi in futuro magari persone altre decidano di dire che quel mondo è finito. Purtroppo non credo, non credo purtroppo, ci spero più di dubbio. Finito? È lunga la strada? Sì, scusa. Credo che sia un po'... No, figurare, credo che sia un po' lunga, tuttavia mi auguro fortemente che questo possa essere un modo per disincentivare. Però il punto chiave, insomma il pallino adesso ce l'abbiamo noi, cioè ce l'ho allo Stato, ce l'ho a chi deve effettivamente giudicare e dire tal caso. Perché però poi il punto è che abbiamo fatto tutto questo transame e tra tre mesi ce ne siamo scordati. Grazie, grazie Giulio. Don Maurizio, siamo in conclusione. A proposito di conclusione, è dirompente non solo il gesto di scrivere questa lettera, ma anche il modo in cui tu l'hai chiusa la lettera, con una benedizione a Francesco Schiavone. Ce la spieghi questa benedizione? Sì, quando ho incontrato suo cugino Carmine Schiavone, lui mi disse sei stato l'unica persona che mi ha benedetto, sempre le persone mi hanno maledetto. Io gli ho risposto ci credo Carmine che la gente ti abbia maledetto, l'avete combinata veramente grossa, avete fatto tanto male a tutti quanti noi. E allora mi sono ricordato che questa benedizione aveva colpito tanto Carmine Schiavone e poi perché io sono un prete, era il venerdì santo, ci preparavamo alla Pasqua, benedico anche lui. Io voglio sperare che la mossa di Francesco Schiavone detto santo, non sia solamente una mossa di scaltrezza per evitare il carcere duro. Io spero e prego che lui possa veramente pentirsi, ma per davvero, guarda, io ricordo che Carmine mi disse una cosa che già sapevamo e sappiamo tutti quanti, che io non ho dimenticato mai. Don Patriciello, se non avessimo avuto agganci con la politica, noi saremmo rimasti solamente una piccola banda di delinquenti di paese. E allora adesso Francesco Schiavone deve parlare, deve fare i nomi dei colletti bianchi, dei politici che hanno dato manforte, lui adesso deve parlare. E io sono veramente fiducioso perché a Napoli adesso noi abbiamo un signore che si chiama Nicola Gratteri, un Nicola Gratteri. Con Nicola Gratteri Francesco Schiavone non può scherzare. Ecco, che è quello che ci stava dicendo però di Gian Antonio Pocanzi. Senti Don Maurizio, prima facevamo accenno a questa strada che si sta percorrendo, che resta ancora molto lunga, ma voglio chiederti quanto sei fiducioso tu che le cose davvero possono cambiare, tenendo conto anche che simbolicamente c'è una parte della casa degli schiavoni che insomma è la sede di un'associazione che assiste le famiglie che hanno ragazzi autistici. Insomma questo è un simbolo importante. E aggiungo anche, ti aspetti una risposta a questa lettera? Guarda, io non so se me l'aspetto ma la spero. Io prego che un giorno possa avere la possibilità di incontrare Francesco Schiavone. Lui ha quasi la mia età, qualche anno in più, per abbracciarlo e per dirgli ormai la tua vita è stata tutto un fallimento. Ammettilo con grande dignità, hai fallito tutto, hai rovinato tutto, hai rovinato la vita dei tuoi figli, hai rovinato la vita di tanta gente, tante vittime innocente, la nostra economia è rovinata, la nostra campagna è rovinata anche grazie a te. Adesso indietro purtroppo non si torna, ma davanti bisogna guardare, bisogna guardare ed essere anche fiduciosi. Non dimentichiamo che il primo che si è portato in paradiso, il nostro Signore Gesù Cristo, è stato il ladrone sulla croce. Oggi sarai con me in paradiso. Io a Francesco Schiavone vorrei dire questo, anche se gli altri ti maledicono, io la tua chiesa di Aversa ti benediciamo e speriamo veramente in un tuo pentimento e il Signore certamente perdonerà anche te e poi insieme riprenderemo la strada per ricominciare veramente da capo. Ecco questo lavoro nostro che noi ci siamo sempre stati, tu non ci sei stato Francesco, adesso puoi recuperare il tempo perduto e metterti con noi, parla e se vuoi fare una cosa bella vai a prendere un po' di soldini dove l'avete nascosti e ridatela ai legittimi proprietari. Grazie Don Maurizio Patriciello, grazie Paolo Di Gian Antonio e Giulio Gambino che ci hanno accompagnato in questa importante, direi cruciale riflessione in questa prima parte del nostro programma. Adesso però voltiamo pagina perché vogliamo tornare a guardare ad una crisi internazionale umanitaria che sta sconvolgendo, è tornata a sconvolgere il Medio Oriente, è la guerra che da quasi sette mesi sta colpendo duramente il territorio, la popolazione di Gaza dopo il feroce attacco di Hamas del 7 ottobre, la risposta di Israele. Vogliamo chiedervi qual è attualmente lo stato delle cose, tra poco ne parliamo e lo facciamo alla luce della consapevolezza che tutti noi possiamo fare qualcosa di concreto. E in proposito appuntatevi questo numero 4 5 5 9 3 è il numero che possiamo comporre per sostenere Oxfam. Oxfam è l'organizzazione che a Gaza e in altre e in molte altre parti del mondo sta cercando di portare acqua potabile perché lì adesso manca anche quella. Allora 4 5 5 9 3 con questo numero. Andiamo in pubblicità poi torniamo subito in studio. Eccoci, eccoci ritornati in studio per dirci, per ricordarci che ci sono gesti come bere un bicchiere d'acqua oppure lavarci che a noi sembrano banali, naturali, scontati. Sì, naturali lo sono quotidiani solo per noi o comunque non per tutte le parti del mondo e comunque noi possiamo contribuire a cambiare le cose. Vediamo. L'acqua salva la vita ma può portare morte quando manca, quando è troppa, quando è inquinata e facilita il diffondersi di gravi epidemie. Tu puoi portare acqua pulita. Manda subito un sms al 4 5 5 9 3 o chiama da telefono fisso. Insieme a Oxfam darai acqua a chi non ce l'ha per bere, per lavarsi, per una vita dignitosa. 4 5 5 9 3. Dona ora. 4 5 5 9 3, l'avete capito, questo è un numero che davvero può fare la differenza e noi possiamo contribuire a fare questa differenza anche in una zona del mondo che sta vivendo un vero e proprio inferno. In questo momento sto parlando di Gaza e allora noi facciamo questa riflessione, ci facciamo anche raccontare quello che sta accadendo e quello che è possibile fare dai nostri ospiti, da Stefania Morra, responsabile dell'ufficio umanitario Oxfam, ben arrivata Stefania, e da Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitarie Oxfam. Allora Paolo Pezzati tra l'altro è tornato da poche settimane, da un paio di settimane proprio da Gaza, quindi insomma ha parecchio da dirci. Morra, questa nostra riflessione non possiamo iniziarla senza fare riferimento a quello che è accaduto poche ore fa, sette operatori umanitari di diverse nazionalità, c'erano canadesi, australiani, polacchi che appartenevano ad una organizzazione internazionale che sono stati uccisi mentre portavano aiuto. Ora non è neppure la prima volta diciamo che questo accade e quindi dobbiamo sottolineare che nell'inferno che è diventata quell'area di mondo in questo momento rischia anche chi porta aiuto, rischiano gli operatori, rischiano i medici, rischiano quelli che raccontano i giornalisti. Esattamente, proprio così è con grande tristezza ed è sconvolgente che siano stati uccisi sette operatori umanitari e questo porta il numero degli operatori umanitari uccisi a Gaza a oltre 200. Questo è inaccettabile ed è una violazione del diritto internazionale umanitario. La popolazione civile, gli operatori umanitari, i medici, gli infermieri, le infrastrutture civili non sono un target e non dobbiamo abituarci. È bene che continuiamo a ricordarlo perché i numeri sono altissimi e il picco, questo numero di operatori umanitari uccisi a Gaza, oltre 200, è davvero inaccettabile e non ci dobbiamo abituare, dobbiamo continuare a dire, a ripetere che non sono un target così come non lo è la popolazione civile. Che deve essere aiutata. Che deve essere protetta. Pezzati, io questa mattina ero colpita perché a un certo punto ho visto in un notiziario delle immagini di una degli operatori, australiana credo fosse, e l'ho vista veramente malgrado l'inferno di Gaza gioiosamente distribuire cibo. Poche ore tutto è cambiato e quindi la mia domanda assume inevitabilmente per te una sfumatura personale perché sei stata a Gaza poche settimane fa e bisogna mettere in conto che le cose possono andare male mentre si sta portando aiuto. Allora voglio chiederti come si fa a continuare a farlo abituandosi, se ammesso che si possa farlo, alla paura? Ma in realtà non dovremmo abituarci alla paura perché ci sono delle regole, ci sono delle convenzioni che determinano come si può fare la guerra e come non si può. Però li stiamo vedendo saltare, diceva Mora. Quindi però stanno saltando in modo, sembra cinico, senza pietà. Non ci so di toglie. E bisogna anche dire una cosa, che magari se ne parla poco di questo tema, ma non si è insicuri solamente dentro Gaza. In questo momento tutti i territori occupati palestinesi sono molto insicuri. Ne parliamo poco, ma anche in Cisgiordania la tensione è altissima. Dal 7 ottobre ci sono stati oltre 400 morti. Arresti. Arresti indiscriminati, arbitrari, quindi senza esporre motivazioni. Quindi c'è un clima di tensione, diffusamente oramai stratificato. Quindi come si fa? Questo è il nostro lavoro, vorrei rispondere così. Però la comunità internazionale può fare molto di più, molto di più nel garantire che le regole vengano rispettate. E purtroppo in questo riacutizzarsi del conflitto ciò non sta avvenendo. Questa è veramente una delle cose più gravi, perché la più grave è quello che sta vivendo la popolazione civile, che poi in quel paese è composta da molti giovani e giovanissimi. Dai contatti che avete, appunto, dalle viaggi di pezzati, dalle testimonianze, ci potete far toccare con mano che cosa sta accadendo, che cosa soffre in questo momento la popolazione civile di Gaza, Amorra? Sì, in questo momento a Gaza è in corso una catastrofe umanitaria. La popolazione civile sta sopportando da sei mesi uno sfollamento. Sono 1,7 milioni le persone sfollate al sud della striscia, Arafà, sfollate anche più volte e si trovano nel sud Arafà in campi informali, in ripari temporanei, rifugi temporanei, in scuole. Con la mancanza manca tutto. Raffà era un'area che ospitava 200.000 persone prima di questa ennesima, di questa crisi e di questo ennesimo conflitto. Mancano i servizi igienico-sanitari, manca l'acqua pulita, l'acqua potabile, manca il cibo. Sono oltre un milione le persone a rischio fame. Una situazione terribile, poi con quel timore di una azione militare che tutti speriamo venga scongiurata. Io vado da Simone per rinnovare l'appello perché noi davvero possiamo fare qualcosa. Sì, possiamo aiutare Oxfam a portare l'acqua potabile a Gaza. Segnatevi questo numero, è semplicissimo. 45593. 45593. E possiamo inviare 2 euro con un sms o 5 o 10 euro chiamando da rete fissa. 45593. Mi raccomando. Grazie Simone. Adesso voglio farvi ascoltare la testimonianza di un uomo che ha avuto accesso finalmente all'acqua potabile proprio grazie all'impegno di Oxfam. Grazie a tutti. 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 molto concreto di aumentare il numero di questi impianti dei salinizzatori spieghiamo un po' perché magari il nostro pubblico perde qualcosa Sì, nonostante le grosse difficoltà siamo riusciti a installare 5 impianti di desalinizzazione per l'acqua che forniscono acqua pulita e sicura a 10.000 persone al giorno il nostro obiettivo, la nostra ambizione dati gli immensi bisogni che ci sono è quello di aumentare il numero di desalinizzatori e installarne almeno altri 6 per riuscire a raggiungere 25.000 persone al giorno Questa è una sfida importante che noi possiamo sostenere possiamo fare in modo che migliaia di sfollati nella striscia di Gaza abbiano acqua potabile e lo possiamo fare usando proprio questo numero 4 5 5 9 3 con un sms possiamo donare 2 euro con una chiamata da rete fissa al 4 5 5 9 3 possiamo donarne 5 o 10 Ora Pezzati, non per ridurre la portata dell'emergenza a Gaza ma per far capire quanto tutto questo ci riguarda e quanto grande il problema voi l'acqua potabile state cercando in questo stesso momento di renderla accessibile in altre parti del mondo Sì, ci sono purtroppo altre crisi dimenticate in questo momento come ad esempio lo Yemen, la Siria, in Etiopia e il tratto comune di queste crisi è che milioni di persone non hanno accesso all'acqua pulita perché o le reti, le infrastrutture sono state distrutte dai conflitti in corso o perché gli effetti del cambiamento climatico hanno portato il prolungamento delle stagioni secche seguite poi da inondazioni che contaminano le falde acquifere quindi uomo e effetti del cambiamento climatico qualche volta questi due fattori si incontrano come ad esempio in Siria producono milioni e milioni di persone che non hanno accesso all'acqua non avere accesso all'acqua vuol dire anche il propagarsi di epidemie o di malattie gastrointestinali In Siria c'è il colera in questo momento Giustamente E quante persone nel mondo non hanno accesso all'acqua per darci un'idea? Ma una su quattro, sui due miliardi due miliardi di persone non hanno accesso ad acqua pulita Marra, facciamo degli esempi ancora più concreti voi siete molto concreti nel dirlo ma specifichiamo ancora che significa non avere acqua potabile? Non solo bere? Non avere acqua potabile non significa solo non avere acqua per bere significa non avere acqua per lavarsi, per cucinare in sicurezza Basti pensare che oggi a Gaza c'è una doccia disponibile per 8 mila persone una latrina per oltre 400 persone quindi significa poter garantire il diritto all'accesso all'acqua potabile che è un diritto per tutti gli esseri umani per vivere in maniera dignitosa quindi per chi ci sta guardando contribuendo con un sms al 45593 oppure da rete fissa si possono donare 5 o 10 euro si può contribuire a fare un gesto piccolo ma estremamente importante in questo momento Noi vogliamo raccogliere questo appello Pezzati e queste persone sono fragilissime ma poi ci sono i più fragili tra i fragili pensiamo agli anziani, pensiamo ai bambini, alle donne incinte, ai malati Eh sì, colpisce molto tra l'altro proprio al valico di Rafa c'è un magazzino grandissimo pieno di beni che non sono entrati e tra questi c'erano incubatrici c'erano bombole d'ossigeno c'erano stampelle c'erano kit igienizzanti o disinfettanti per le sale operatorie quindi tutti i beni che salvavita che potevano contribuire a ridurre la vulnerabilità di queste persone perché come ha detto lei appunto poi dopo nei conflitti chi è vulnerabile è il primo a subire gli effetti in modo più grave Purtroppo così, poi più in generale nel mondo a causa della mancanza di acqua muoiono più di mille bambini al giorno quindi tra i vulnerabili proprio i bambini sono quelli che fanno le spese più grandi Allora in chiusura ricordiamolo questo una persona su quattro nel mondo non ha accesso a fonti di acqua potabile pulita né per bere né per lavarsi è un'emergenza che si pensa possa precipitare nei prossimi 30 anni potrebbe investire un miliardo di persone in più e proprio in questi giorni si celebra la giornata mondiale dell'acqua per questo fino al 9 aprile noi abbiamo la possibilità di fare concretamente qualcosa di contribuire alla campagna di cui abbiamo parlato promossa da Oxfam Dona Acqua Salva Una Vita e possiamo farlo componendo il numero 45593 io ringrazio i nostri ospiti Stefania Morra e Paolo Pezzati per quello che fanno, ringrazio Oxfam per la sua presenza stabile là dove insomma non c'è quasi più nessuno grazie, grazie davvero, grazie a tutti voi noi siamo qui dal lunedì al venerdì alle 15.15 grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti